Se suonate il campanello di Craven Road numero 7 a Londra sentirete un urlo agghiacciante. Alla porta apparirà un buffo personaggio con occhialini e baffetti neri. Niente paura, l'urlo proviene dal campanello e l'omino buffo è Grucio, mio fedele assistente. Ah, scusate, non mi sono presentato. Sono Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Preferirei che d'ora in avanti mi chiamaste solo Dylan. Chi non crede ai mostri e ai fantasmi, agli zombie e ai lupi mannari, troverà forse un po' ardita la definizione di indagatore dell'incubo. Invece io ho imparato a mie spese che niente è più pericoloso di una cosa alla quale non si crede. Ho deciso quindi di abbandonare la mia attività di poliziotto per occuparmi di casi che io definisco legati al mondo del paranormale. Le cose, insomma, che Scotland Yard chiama genericamente roba da matti. E vi confesso che io stesso, quando un cliente viene a chiedermi aiuto, penso sempre di avere a che fare con un matto. Poi, la mia maledetta curiosità mi trascina in storie in cui Jack lo squartatore farebbe la figura dell'allegro chirurgo. So benissimo che tutte le piste devono essere battute, anche le più assurde. In questi casi faccio ricorso alla mia medianità. Non proprio un sesto senso, diciamo un quinto e mezzo. Il fascino della paura è la molla che mi spinge a fare questo lavoro. Io parto dal presupposto che non si può uccidere la paura, casomai è spesso lei ad ucciderci. Non è detto che chi è senza paura sia coraggioso. Spesso è solo un incosciente, oppure un ignorante. Io mi ritengo un migliacco militante. Nelle situazioni più difficili l'importante è non farsi prendere dal panico, anche se ammetto che a volte mi sono fatto raggiungere. Sul mio conto si dicono tante cose. In fondo nessuno è niente, può dirsi normale in questo strano mondo, d'accordo? Il mestiere che faccio non è uno qualsiasi e spesso sono proprio io il cliente di me stesso. Mi incarico cioè di scoprirmi a fondo. In questi casi mi faccio anche uno sconto sul compenso. Trovo impossibile restare seduto a parlare con qualcuno. Per farlo dovrei essere legato. In genere mi alzo, prendo il clarino, lo suono, mi risiedo, faccio gesti con le mani, mi risiedo, accendo lo stereo, incollo qualche pezzo del mio galeone, torno a sedermi e così via. E a quel punto il mio povero cliente è completamente a proprio agio, dato che solo a un matto si possono confessare cose da matti. Come investigatore privato, rapporti difficili con Scotland Yard, al di là del mio caro amico l'ispettore Block. Block è un uomo adorabile, scettico ad oltranza, che alla fine però fa sua una celebre massima. Non è vero, però ci credo. Per il resto, se passate una sera con me e Grucio, il mio assistente, scoprirete che le situazioni più tragiche non le vivo fuori, ma proprio dentro casa mia. Grucio è un ex attore che in attesa di tornare sul palcoscenico si esercita tutti i santi giorni a dire sciocchezze. I miei nemici. A parte gli incubi ricorrenti c'è un tale chiamato Xabaras. Questo tipo che, a quanto ne so dice di essere mio padre, me lo ritrovo sempre tra i piedi. Che sia il diavolo. Dicono che la nostra partita continuerà finché non avrò finito di costruire il mio bellissimo galeone. E visto che mi piacciono le sfide, credo che non completerò così in fretta il mio libro. Che cos'è l'umanità? Non lo so, ma non mi piace. Preferisco le singole persone. Mi piace lottare contro i mostri, ma so benissimo che basta girare in città nelle ore di punta per vederne a volontà, chiusi nelle loro auto, pronti a scannarsi appena scatta il verde. Il mondo è talmente pieno di errori e che zombie e licantropi se ne stanno nascosti dalla paura. Paura di morire? No, non bisogna avere paura. In fondo è solo un attimo. Se poi la morte giungesse solo a chi se lo aspetta, finirebbe per diventare noioso. Del metodo razionale d'indagine non capisco niente. Sono solo uno che cerca di capire gli altri, uomini o mostri che siano. Ancora una volta scartate tutte le ipotesi possibili e ciò che resta è molto più divertente. E guarda caso, è il mio mestiere. L'incubo. 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 Grazie a tutti